cari amiche ed amici ben trovati in questo nuovo live e da molto che non trasmettevo volevo parlarvi giorni fa della guerra fra arzerbaijan e armenia ma l'ho fatto nel mio canale principale di youtube e adesso vi trasmetto questo live in sprecher perché mi mancava di fare un live in sprecher l'episodio del quale state ascoltando il contenuto tratterà di youtube e i suoi algoritmi perché sono anni ormai che vengo ascoltando molte considerazioni riguardo come aumentare il numero degli iscritti come aumentare le visualizzazioni come aumentare i like i commentari come aumentare le ore di visualizzazioni del canale e mi sembra che sono tutte teorie buone ma che sono un po tirate a campare e quindi mi raccomando se avete potuto delle domande da fare in questa live di sprecher qui su sprecher o nel mio canale di youtube dove verrà salvata in automatico sprecher radio post cast of santenchan fate dei commentari e dategli like o dislike se vi è piaciuto o no e condividiatela affinché anche altri in youtube e in sprecher possano dire la loro iscrivetevi così aiuterete il mio canale di sprecher ma anche il mio secondo canale di youtube a crescere e adesso passo a disporvi i miei pensieri al rispetto molti non tengono in considerazione gli algoritmi di youtube certo gli algoritmi di youtube si basano anche sui like che ricevete sui commentari sui dislike che poi valgono lo stesso perché sono le reaction del pubblico quindi non c'è problema se vi danno più dislike che like significa che il pubblico comunque vi segue reazione ai vostri video e poi la condivisione perché è importante non soltanto generare visualizzazioni ma anche e ore di visualizzazioni per video ma anche che i vostri video generano traffico a altri video del vostro canale o di altri canali e che i vostri video siano condivisi dal pubblico però c'è un qualche cosa che la gente ignora e che ignoravo io per molti anni ogni volta che voi guardate il video di qualcuno associate il vostro canale e i vostri video ai video e ai canali di qualcun altro e io avevo la brutta abitudine per anni di uscire da youtube e di guardare i video senza commentarli e senza dargli like video che ricercavo in youtube per per tema e quindi nessuno sapeva della mia esistenza al di fuori del novero dei miei iscritti vabbè che ogni volta che ti commentano un video per esempio dovresti non soltanto rispondere al commentario ma passare dal canale di chi ha prodotto il commentario guardargli un video e commentarlo e dargli like se ti piace ma il fatto è proprio quello se ti limiti a guardare i video e commentare video dei tuoi iscritti che interagiscono con te e sono i video della tua community perché i nostri iscritti sono la nostra community rimaneremo chiusi in una bolla che magari può essere ampia possiamo avere 2 3 mila iscritti 30 mila iscritti di cui solo il 10 per cento attivi invece se vogliamo aumentare il numero delle visualizzazioni dei nostri video e anche delle ore di visualizzazione innanzitutto dobbiamo cercare di raggiungere il grande pubblico che questo implica collocare i nostri video nel campo delle ricerche della maggior parte degli utenti attraverso il titolo una buona descrizione e migliori tag ma non basta dobbiamo anche essere attivi in youtube nel guardare e commentare i video di altri ma non soltanto dei nostri iscritti dicevo voi ogni giorno guardate due o tre video io ultimamente sto riguardando i video musicali di frank zappa jimmy andris jim page ozzy osbourne dei black sabat per dire i classici del rock e commento e do like magari non i titolari dei canali che questi video già hanno 20 milioni di visualizzazioni loro non mi rispondono ma io lascio dei commentari intelligenti non il solito bel video e non solo quello ma per esempio ci sono dei commentari che ricevono 30.000 100.000 like e 50.000 commentari a loro volta allora do like a quei commentari e lascio un commentario tipo brillante mi piace eccetera bel commentario o magari non mi se non vi sembrerà vero ma io ho avuto 20 iscrizioni negli ultimi mesi dopo mesi di aver commentato dei video e di aver commentato dei commentari molto commentati perché quando tu dai like e commenti un commentario molto commentato che ci abbia like e dislike tutti quelli che hanno lasciato un like o un dislike leggeranno il tuo commentario sono 30.000 100.000 persone e leggeranno il tuo commentario e poi quando lasci un commentario a un video molto visto e inizi a dare like ai commentari molto che hanno ricevuto molti like anche quelle persone sapranno del tuo commentario quindi automaticamente voi andate in analytics in youtube soprattutto dal cellulare facile è andata a vedere l'origine del traffico perché ci sono dei video che portano ai tuoi video e al tuo canale possono essere i tuoi stessi video come i video di altri quando voi lasciate un commentario in un canale magari l'uno per cento del traffico ve lo dà quel video non importa se se ha molte visualizzazioni e molti commentari oppure no quindi questo che significa che associeranno il video che hai commentato al tuo canale ai tuoi video se rimani ristretto in un determinato ambito cioè guarderai sempre gli stessi video magari dei tuoi iscritti non crescerà il tuo canale rimarrà in quella bolla che non si espanderà più di tanto invece se inizierai a vedere video di altre tematiche per esempio storia della seconda guerra mondiale letteratura bisogna cercare delle tematiche diverse gastronomia io per esempio guardo video di gastronomia anche asiatici tanto non c'è bisogno di capire nulla di arti marziali di maestri giapponesi cinesi coreani non c'è bisogno di capire nulla per guardare l'esecuzione di kata di forme coreografiche di tecniche ma bisogna anche tenere presente che youtube premia i canali che rimangono attivi più tempo possibile non necessariamente devi ottenere mille visualizzazioni o 10.000 visualizzazioni in un giorno per essere un canale importante ma il traffico deve essere continuo ora mi spiego nel mondo ci sono 24 fasce orarie se tu fai dei video per un pubblico esclusivamente italiano è logico che ci sono delle zone morte per esempio dalle 10 di sera alle 6 7 del mattino o dalle 10 di sera fino alle 10 del mattino dipendendo da chi ti guarda poi dalle 10 del mattino a mezzogiorno ti seguono in pochi da mezzogiorno alle 3 4 del pomeriggio ti segue più gente dalle 4 alle 8 del pomeriggio di sera ti seguono più persone la maggior parte ti guardano dalle 8 di sera alle 11 e poi finisce il pubblico ma se hai del pubblico anche dalla Thailandia dal Giappone dalle Hawaii insomma da molte parti del mondo anche se ti seguono in pochi ti seguono costantemente e quindi l'affluenza al tuo canale è incessante perché non c'è sempre qualcuno che guarda i tuoi video quindi cerca di guardare non solo per interesse per argomento cercando gastronomia nei vari idiomi bricolage arti marziali perché le arti marziali si praticano ormai in molte parti del mondo meditazione eccetera ma anche per aree geografiche qualcuno è non necessariamente di chi ha pochi iscritti io ho degli iscritti nel mio canale che hanno milioni di iscritti risponderà al tuo appello risponderà ai tuoi commentari si iscriverà addirittura al tuo canale e allora vedrai che quando commenterai uno dei suoi video e darai like ai commentari che ha sia sia che siano pochi sia che siano molti soprattutto i canali che hanno molti commentari e molte visualizzazioni hanno dei commentari che hanno 30.000 like dai like a quei commentari e lascia un commento a quei commentari con molti like qualcuno ti risponderà qualcuno guarderà i tuoi video e gli darà like e lo commenterà magari si iscriverà al tuo canale anche se non parla italiano parla giapponese o tailandese a me mi è successo così e funziona quindi io ogni giorno guardo video che non siano necessariamente parlati in idioma occidentale perché sono video che hanno a che fare con arti marziali gastronomia a giardinaggio temi che non devo interpretare l'idioma per comprenderli oppure paesaggistici che li fanno con i drone riprendendo i paesaggi quindi sono dei paesaggi stupendi dei paesi asiatici per cui non devo capire o delle Hawaii non devo capire quello che dicono la natura parla da sé i templi le costruzioni anche dalla grecia dalla tunisia dal magreb e quindi voglio dire lo potete fare anche voi e come sfruttare quindi gli algoritmi di youtube perché lavorino per noi semplice youtube associa il nostro comportamento a quello che guardiamo e saranno associati per affinità i nostri video le nostre liste di riproduzione e i nostri canali quindi sia che guardiamo i video nella sessione di youtube sia che lo guardiamo i video guardiamo i video in uno smart tv senza aver avuto accesso al nostro account però è meglio aver avuto accesso all'account di youtube quindi più interazione avete anche al di fuori della cerchia del novero dei vostri iscritti ma potete anche interagire con gli iscritti dei vostri iscritti guardando i video degli iscritti dei vostri iscritti e commentandoli in questo modo non dico che tutti interagiranno con voi ma qualcuno lo farà ecco ho creato questo video e lo salverò nel mio secondo canale di youtube per non caricare troppi video nel mio canale principale di youtube che è San Ten Chan quindi vi lascio buon fine settimana a tutti e mi raccomando se vi è piaciuto questo video commentatelo in youtube ed iscrivetevi al mio canale principale di youtube adesso vi lascio altrimenti inizia un'altra traccia di speaker ciao ciao mi raccomando grazie per avermi seguito in questa live o per guardarla sentirla indifferita ciao